E adesso vi mostriamo un particolare flash mob con cui gli allevatori hanno voluto dimostrare solidarietà e vicinanza. Una voce che dice noi ci siamo, continuiamo a produrre, continuiamo a lavorare tutti i giorni. E' una voce che dice grazie a tutti quelli che si stanno adoperando per i malati, per le famiglie, per tutti quelli che hanno bisogno in questo difficile momento. Ed è una voce anche che piange per le persone che non ci sono più. Ed è una voce che risuona nei pascoli vicini a quelli di Marzia Verone e del compagno ai mille metri di nusse e che nel primo giorno di primavera prova a imbastire un filo che attraversa l'arco alpino e i confini nazionali. Tante le adesioni di allevatori da Tirolo austriaco, Alto Adige, Svizzera, fino anche dalla provincia di Bergamo, dove protagonista è il suono particolare delle campane in bronzo utilizzate per i momenti di lutto. Eravamo in stalla, aspettavamo il parto di una capra, infatti noi qua eravamo già isolati prima di quello che ahimè sta succedendo perché era il periodo delle nascite, quindi bisognava essere qua con gli animali. E sull'onda dei primi flash mob che sono stati organizzati di canzoni sui balconi abbiamo detto perché non facciamo anche sentire la voce degli allevatori. A differenza di altri Marzia con 20 capi fra bovine e capre conferisce il latte vaccino e non produce formaggio in casa. E nei pochissimi momenti liberi scrive su un blog rigorosamente in casa. Rimanere in casa è un sacrificio di un periodo che è per tutti perché altrimenti se ciascuno continua a essere egoista dicendo io esco perché non so come ne usciremo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.